Leone e la dolcissima orsetta Zuan, cucciolo di panda rosso, figlia della splendida zampa bianca. Arriva così a sette esemplari, di cui ben quattro nati in cattività, la famiglia del panda rosso del Parco Natura Viva di Bussolengo, alle porte di Verona. Qui specie animali vengono ospitate per preservarle dall'estinzione e le condizioni ambientali devono essere davvero ottimali, dato che in questi giorni, oltre a Zuan, sono venuti alla luce in cattività un cucciolo di pisonte, cinque serpenti palla e quello che a prima vista sembrerebbe un anatroccolo, piccolo, timido e impacciato com'è, ma che in realtà è una gru coronata. Il pulcino, crescendo, assumerà, grazie ad un particolarissimo ciuffo di penne sulla testa, un aspetto regale. E in virtù di tutte queste nascite, il Parco Veronese è già stato ribattezzato il Parco degli Eterenti. Leone e la dolcissima orsetta Zuan, cucciolo di panda rosso, figlia della splendida zampa bianca. Arriva così a sette esemplari, di cui ben quattro, nati in cattività, la famiglia del panda rosso del Parco Natura Viva di Bussolengo, alle porte di Verona. Qui specie animali vengono ospitate per preservarle dall'estinzione e le condizioni ambientali devono essere davvero ottimali, dato che in questi giorni, oltre a Zuan, sono venuti alla luce in cattività un cucciolo di pisonte, cinque serpenti palla e quello che a prima vista sembrerebbe un anatroccolo, piccolo, timido e impacciato com'è, ma che in realtà è una gru coronata. Il pulcino, crescendo, assumerà, grazie ad un particolarissimo ciuffo di penne sulla testa, un aspetto regale. E in virtù di tutte queste nascite, il Parco Veronese è già stato ribattezzato il Parco degli Eterenti.